Wow, partiti in direzione Chiang Mai. Due giorni dopo il match, come vedete ancora la faccia. Siamo fermi al cosiddetto autogrill, non sappiamo cosa mangiare. Alla fine, guardate dove siamo finiti. Mi piace il mio amico. Siamo fermati qui per cercare da mangiare. Abbiamo trovato un posto su Google Maps che ovviamente, arrivati alla location, non esiste. Ecco qua, i Thai che giocano a calcio. Goal, goal! It's very ghetto, not the right place to take a video. Siamo venuti al mercato, sotto consiglio dei locali. Dopo 9 ore di viaggio, siamo fermati in una provincia sperduta. Siamo arrivati in Nutella. Doccia fatta. Noi. Adesso andiamo a mangiare una cosa qui vicino, poi a dormire, domani si riparte, però buongiorno. qui è la nostra stanza. Eccolo qui il fiume. Qui siamo noi. Siamo partiti, siamo di nuovo in macchina. Cerchiamo da mangiare. Provate. Solo noodles e curry. Bisogna mettere noi le verdure. Second dish. Sun up. Your destination is on the left Wow Mmm You're doing that You're doing that